Siete in maggioranza? Assolutamente, la stiamo già facendo. Smonterete il reddito di cittadinanza? Infatti in agricoltura abbiamo smontato, abbiamo trasformato le risorse in decontribuzione e quindi i lavoratori vanno a lavorare a stipendio pieno perché la cassa integrazione, guardi, è già su stipendi bassi. Prendere il 70% o l'80% è mortificante per chi riesce a prenderlo. Quindi si torna a lavorare a stipendio pieno e l'azienda paga meno perché paga meno contributi. È una cultura completamente diversa. C'è chi ha la cultura dell'assistenzialismo e c'è chi ha la cultura del lavoro. E il lavoro va aiutato sostenendo le imprese che possano far pagare meno il costo del lavoro e aiutare quindi a ripartire.